Guardate come collimano tutti i discorsi, vi ricordate la Cristoforetti che non a caso le due notizie sopra la rimettono, no? La Cristoforetti. Ve la ricordate che consigliava di mangiare gli insetti? Ebbene, ora c'è una battaglia contro la carne, è abbastanza evidente, no? Ora non per far l'animalista, il non animalista, ma per farvi capire come stanno le cose. Dicono oggi, stranamente, vi ste contaminati, allarme, misteriosi in diverse regioni, mistero, attenzione sulla contaminazione degli animali. Mi sembra abbastanza che vada di pari passo, molti non le vedono ste cose, io le noto subito, che c'è una campagna per abolire la carne e farti mangiare gli insetti. Chiaro e tondo. Due notizie sotto, eh?